salve a tutti ragazzi video misterioso registrato in polonia guardate qui è un pochino strano durante questo fulmine appare questa forma insolita che io sinceramente più vedo più la rivedo e non mi faccio capace di cosa possa essere in principio dato la sua forma avevo pensato al famoso cavaliere nero quel quello quell'oggetto che fu fotografato nel 1998 che secondo alcuni è un detrito spaziale ma secondo alcuni ufologi è un satellite artificiale di origine aliena che ci controlla quindi questa è la forma che mi era venuta in mente però sinceramente non posso dire è questo oppure quello quindi come sempre ragazzi io chiedo il vostro parere secondo voi cosa diavolo è quindi vi facciamo vedere il video che ripeto è un po' al ralentatore per far vedere bene l'immagine come sempre ragazzi al prossimo video ma soprattutto al prossimo mistero